1-1 fra Viking di Stavanger in Norvegia e Borussia Mönchengladbach che aveva vinto all'andata per 3-0, l'1-1 l'è più che sufficiente. La squadra del Viking va in vantaggio nel primo tempo, un minuto dal riposo con Jörnsen, la squadra del Viking è in maglia blu, tenuta completamente blu, bianco-verde la formazione del Borussia che è la squadra che detiene il trofeo della Coppa UEFA. Nel secondo tempo al 23esimo della ripresa il Borussia pareggia con Kulik ma il successo che aveva ottenuto l'andata per 3-0 avete visto che c'è stata una grossolana incertezza difensiva in questo rilancio che libera Kulik, gol dell'1-1, il 3-0 era comunque sufficientemente tranquillo per il Borussia che ha superato.